Buongiorno a questo bel messaggio e anche grazie per aver citato la Carta Costituzionale. Adesso invito il giovane Lorenzo Nardozza, rappresentante dell'Istituto Scolastico Giustino Fortunato di Rio Nero, istituto vincitore, ripeto, del concorso LexGo 2023, organizzato appunto dall'Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con il Ministero dell'Istituzione e del Merito. A te la parola, prego. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha individuato l'Istituto Giustino Fortunato, scuola capofila di rete, per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Nella rete diamo una lezione al bullismo. Sono coinvolte 11 classi terze della scuola secondaria di primo grado. L'Istituto Comprensivo di Atella, l'Istituto Comprensivo Giovanni XII di Barile, Giovanni XXII di Barile, l'Istituto Michele Preziuso e l'Istituto Comprensivo Michele Granate di Rionire in Vulture. E 12 classi prime del nostro istituto, il Giustino Fortunato. Tra le attività svolte rientravano l'incontro con il dottor Paolo Picchio, presidente della Fondazione Carolina, e incontri con la psicologa, con la qualizia postale e con la qualizia di Stato. E il corto dal titolo, prima regola del Fair Club, parlare con il bullo. Al prodotto finale, in cui sono stati coinvolte tre classi prime del liceo scientifico, prima G, prima H e prima F, siamo giunti attraverso tre fasi. La prima fase consiste nella costruzione della storia. In piccoli gruppi abbiamo lavorato alla trama della storia. Il testo finale è frutto di un lavoro di sintesi tra gli elementi più originali emersi dal lavoro in piccoli gruppi. Si è proceduto, a questo punto, a stendere un semplice pieno di lavorazione. Seconda fase. La produzione del corto. La troupe, costituita interamente dagli alunni del laboratorio, sotto la supervisione di esperti della comunicazione, ha girato le scene del corto sulla base del pieno di lavorazione, elaborato nelle fasi precedenti. La terza fase consiste nella post-produzione. Si è così giunti al montaggio delle singole scene, supportati dai tecnici e degli specialisti coinvolti. L'ingegner Michele Scioscia e Rocco Ritolve di F9 da Potenza. Il corto è la storia della sofferta solitudine di un bullo e del suo prorompente desiderio di comunicare. Nel racconto, un semplice abbraccio può servire ad abbattere quel muro che il bullo ha costruito intorno a sé, svelando nel desiderio di affetto e comprensione. Il titolo Fair Club è stato scelto per sottolineare la necessità di non soffermarci ad un giudizio frattoloso e stereotipato delle persone, ma di sforzarsi a comprenderne in sicurezza e incertezze. Siamo tutti coinvolti, direttamente o indirettamente, in questo fenomeno, poiché, quotidianamente, ci può capitare di assistere a comportamenti che richiederebbero una nostra presa di posizione e che invece, troppo spesso, facciamo finta di non vedere. Per quanto voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. Canzione del Maggio di Fabrizio Di Andrè Ringraziamo l'Ufficio Scolastico Regionale, la Referente Regionale per la Legalità, la Dottoressa Barbara Coviello, il Consiglio Regionale e in particolare la nostra dirigente scolastica, la Dottoressa Antonella Ruggeri, che ha creduto in noi e ci ha sempre sostenuto. Grazie, allora adesso procediamo con il vedere questo importante video, vincitore del paese, prego. Un po' di raffreddore, non voglio mischiarti il Covid. Il Covid è il pazzo! Grazie!